Pianto di criatura e salernate, cristiano morto acciso e incurtolato, uomini d'onore, mamma e l'ambiente, gente che è chiamata nel bastimento, la cima che è la torre spezzata, la donna segmana la ballata, la cima che è la torre spezzata, questo è mea, sto sentuta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.